Voi siete la squadra rossa, appassionati, arreterete mai. La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. Sentito la vostra magia, un' sensazione stradonoria. Ragazzi, mi ringrazio per avermi. Mi mancherete un saluto a tutti voi a Baranello. Meritate, ho menzionato qui. E adesso, io quasi quasi dirò addio e auguro, auguro il meglio. Auguro di essere felice, ma di più essere sano. Grazie. Grazie a te, siamo noi a ringraziarti di cuore.